osservate con quanta bellezza e separata la linea del chiaro da quella dello scuro la luce dal buio e osservate altrettanto attraverso la mano della musicista e il volto della musicista come è colto il momento della massima concentrazione emanuele vergari questo artista che stiamo presentando già vincitore della sezione di fotografia del premio arte salerno 2016 un artista che attraverso prince art gallery casa d'aste sta trovando il suo mercato e trova la sua dimensione nel panorama nazionale e internazionale del mercato dell'arte con quest'opera emanuele vergari un artista eclettico avremo modo di parlarne un artista che ha per esempio realizzato una copertina di un volume musicale di ligabue che ha realizzato più di 600 pubblicazioni sulla rivista jazz ma queste sono solo alcune delle tante notizie intorno a questo artista che anche lui attraverso prince art gallery casa d'aste verrà battuto delle tante notizie intorno a questo artista che internazionale del nostro artista che a la sua vita ti a scusate e le tante notizie intorno a questa notizie intorno a questa